Fino al prossimo 27 luglio, se avete un'oretta da dedicare a una delle vostre passioni e siete appassionati di Peppone e Don Camillo, non perdete l'occasione di venire a Palazzo Pirelli, perché il Pirellone, al primo piano, nello spazio 20 davanti al quale ci troviamo, ospita questa mostra, Il mio cuore è targato Mi, Giovannino Guareschi della Lombardia. Una mostra composta da pannelli e da due parti. La prima parte esamina il rapporto tra Giovannino Guareschi e Milano e la Lombardia. Vedete dei pannelli lungo i quali si ripercorre un po' la storia di Giovannino Guareschi, dalla scoperta di Milano, l'anno 1936, quando da piccolo arriva a Milano, a Milano poi che scopre come una città che non finisce mai, così la definiva Guareschi, inizia anche il suo giro personale d'Italia, tra la via Emilia e la riva del Po, che porta a raccontare un po' l'Italia di quegli anni, con diversi riferimenti al mulino del Po, ad esempio, a luoghi della Lombardia come il lago di Seo o Brescia, il lago di Como che rimane nel cuore, soprattutto questo è l'ecco in una bella fotografia, rimane nel cuore di Giovannino Guareschi, e finalmente, a dicembre del 1945, nasce quello che è il fenomeno, un po' del dopoguerra anche a livello letterario, il candido di Giovanni Mosca e Giacinto Mondaini, che arrivò a tirare oltre 600.000 copie e lì Guareschi cominciò proprio la sua epopea di scrittore e di grande narratore dell'Italia. Tanti episodi poi lo legano a Lombardia come questo, rappresentato in questo pannello, il raduno dei 14.000 guzzini a Mandello dell'Ario. Guareschi era una grande appassionato di Moto Guzzi e questo è uno degli episodi che più lo ricordano. Passiamo poi alla seconda parte di questa mostra, che riguarda invece i due personaggi più famosi proprio della fantasia di Giovannino Guareschi, Camillo e Don Peppone. E in questa seconda parte si ripercorrono un po' gli inizi di questa saga di Don Camillo e Peppone per raccontare episodi della bassa. Questo era un motocarro, ad esempio, di proprietà proprio di Giovannino Guareschi che era un grande appassionato di motori, nonostante la moglie fosse un po' sospettoso. Ancora il galletto mitico, antesignano degli scooter, inventato dalla Guzzi, sempre di proprietà di Giovannino Guareschi. E poi il film, il film che portò Peppone e Don Camillo alla conoscenza del grande pubblico. Guareschi aveva dei dubbi per quanto riguarda Gino Cervi e Fernandel come protagonista perché pensava che rubassero un po' la scena ai suoi personaggi. In realtà fu convinto ad accettare appunto questi due attori e poi questo fece sì che entrassero nel cuore un po' non solo degli italiani ma davvero un po' di tutto il mondo. Con Brescello che diventa patria d'adozione proprio perché lì si è girato il film di Peppone e Don Camillo e che diventa un vero e proprio fenomeno. Questa è la seconda parte della mostra. Una mostra che poi ha un appendice che troviamo nell'ultima parte del Spazio Eventi del Pirellone. Oltre a questa splendida foto di Gino Cervi e Fernandel troviamo la riproposizione di Route 77 che poi la via Emilia che è una mostra che è stata realizzata in occasione dell'anniversario del 2018 di Giovannino Guareschi e che viene riproposta anche qui al Pirellone. Quindi se amate Peppone e Don Camillo o amate Guareschi non perdete questa occasione fino al 27 luglio al primo piano del Pirellone.